In questo breve video vedremo come usare gli alias. Allora, non preoccupatevi, non è una lezione di latino questa. Vedremo essenzialmente cosa sia un alias e a che cosa serva. Allora, perché questo video tutorial e perché gli alias? L'obiettivo è molto semplice, per risparmiare tempo, e ora cercherò di spiegare il perché. Innanzitutto, cos'è un alias? L'alias è un nome che sta per un altro nome, o un nome, ed è questa la cosa importante, che sta per un gruppo di nomi. Poniamo di voler scrivere a due nostri colleghi, inseriamo nel campo destinatari i loro nomi, ma se vogliamo scrivere a duemila colleghi, potrebbe essere un problema inserire tutti i loro nomi. Allora si crea un alias che avrà una forma di questo tipo, duemila colleghi, chiocciola, liceosansepolcro.eo. In questa maniera, scrivendo all'alias, stiamo scrivendo ai nostri duemila. Ovviamente avete capito l'obiettivo. Noi abbiamo creato gli alias di tutte le classi. In questa maniera, scrivendo all'alias di classe, che ha una determinata sintassi che poi vi spiegherò, la mail arriva a tutti i ragazzi. Quindi evitiamo di scrivere 15, 20, 25, 30 nomi. A che serve? Ormai penso sia chiaro. Serve a risparmiare molto tempo e anche avere una certa pulizia nell'invio delle mail e a non dimenticarsi nessuno, perché in un alias sono indicizzati tutti i ragazzi di una determinata classe. Non solo. Abbiamo creato anche gli alias dei dipartimenti. Forse non sono stati finora mai usati, ma ogni dipartimento ha un alias. Quindi se voglio scrivere al dipartimento di lettere, adopererò una certa sintassi che mi eviterà di scrivere tutti i singoli indirizzi mail dei colleghi che ne fanno parte. Gli alias del liceo non li comunico in questo video, che è pubblico e andrà su YouTube, ma sono stati già tutti quanti comunicati in svariati canali. In ogni caso potete fare riferimento a me e, come al solito, anche ad altri colleghi che ne fanno uso per avere il file con tutti quanti gli alias. Ricordo che sono stati indicizzati tanto per il liceo quanto, naturalmente, per l'ITE.